Non so se lo sapete ma oggi è successa una cosa molto grave e vorrei discuterne assieme a voi Due youtuber italiani hanno nolleggiato una Lamborghini e c'è stato un incidente fatale per un bambino di 5 anni Ne parliamo ora in live su Twitch, vi lascio il link qui sotto in descrizione